Ebbene Gonzalo Iguain passa alla Juventus. Passa, come avete capito bene, il Napoli, squadra che ha visto questo giocatore, questo giocatore, giocare proprio nella sua promozione giocistica, ha ceduto Iguain alla Juventus. Relative visite mediche a Merida, capitale della Spagna, per appunto il famoso accattante argentino, su cui sarebbe stato raggiunto l'accordo con i bianconeri per un contratto da ben 4 anni di tempo, che rovega quindi in conseguenza fino al 2020 con la Juventus a 7 milioni e mezzo a stagione, 7,5. La Juventus sarebbe risposta a pagare la clausola necessaria di 94,7 milioni di euro, e talmente al direttore sportivo Marotta avrebbe avvisato il patrón del Napoli, l'Aurentis, per incontro a quanto pare i bianconeri in arma obbligata a comunicare lo svolgimento delle visite d'Italia della Spagna, quindi in Madrid. Beh, che dire, questa antissima appunto colpito Iguain, se non è un gran calciatore, al Juventus sono certo che darà tutto per tutto, farà vedere di che passo è fatto, è un talento della natura, un suo argentino che ha convenire il calcio nel sangue, nelle sue idee. Sono convinto che farà il femminile, dovrà alla grande e farà garantire un risultato eccellente all'Aurentis. Grazie per l'ascolto e scrivetevi in commentare se in cari video fossero presenti delle inesattezze dell'escuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto esclude su di me eventuali responsabilità. Grazie per la visione!